Il bilancio non può essere che soddisfacente, sicuramente c'è stato un incremento delle presenze rispetto all'anno scorso con dei numeri veramente importanti. E quindi luogo d'incontro, Job, si conferma per discutere le problematiche del lavoro, dei giovani, dell'orientamento e tutto quanto può servire per trovare uno sbocco positivo nella vita. Molto positivo perché volevamo la presenza di molte più regioni degli altri anni, abbiamo raggiunto il ragguardevole numero di nove ministeri, regioni, portatori di interesse, anche a livello dei dibattiti è stato altissimo e quindi un bilancio direi molto positivo. Verona in questi giorni è diventata la capitale dell'orientamento in Italia e mi pare che anche questo vada messo su uno dei piatti della bilancia che speriamo faccia propendere sempre di più anche da parte delle autorità competenti l'attenzione e l'affetto per questa nostra manifestazione. Job non è semplicemente una gita, è un'occasione di apprendimento, questo è molto importante, è sempre più un momento anche per i convegni non buttato come pulviscolo nell'aria, ma con semi gettati su solchi ben precisi, su problemi sempre definiti, in modo che anche agli incontri ci siano ragazzi e operatori molto interessati sulla problematica di dettaglio. Grazie a tutti!